Con l'apertura della Rossone, Tavano Ristorante, nel cuore dell'azienda agricola Bastianich, ci scattiamo di impostare un nuovo tipo di ristorazione che coinvolge in maniera molto stretta la produzione agricola del vino e del cibo in un contesto di ristorazione. Essendo del mestiere di ristorazione ci teniamo molto che il ristorante La Taverna completa il ciclo dell'offerta di un'azienda agricola Bastianich. Allora, una novità come concetto per noi come ristoratori fare un ristorante nel cuore dell'azienda agricola.